Siamo nel comune di Callabiana, nella frazione di Nelva, abbiamo qua il signore Gino in nostra compagnia che ci spiega un po' questa meraviglia di questo, per esempio, meccanico proprio in questo comune. Allora, questo meccanico, così come ha detto lui, è nato una quindicina di anni fa. Un piccolo tavolino, abbiamo preso 50.000 lire di soldi e con le offerte abbiamo detto lo facciamo almeno per dieci anni che ristrutturiamo la chiesa. Infatti è stata così. Il mio sovaggio è Paolo Gibello. Signor Gino, prima ci ha detto, 15 anni che fate questo presepe meccanico, ci spieghi un po' quando lo aprite in genere e quando finite la vostra apertura. Allora, intanto vi volevo ringraziare della visita che avete fatto al nostro presepio perché, diciamo, per noi la pubblicità è sempre quella che conta perché venire su fino a Calabiana è sempre un'impresa perché, insomma, nei paesi piccoli non viene più nessuno. Allora, io e il Ginetto abbiamo incominciato appunto, come diceva lui, a fare questo presepio qua una quindicina di anni fa. Abbiamo incominciato con un tavolino che era due metri per due e mettendo poche statue e una casetta che aveva fatto il Ginetto in pietra. Ci siamo ripromessi di continuare e fortunatamente la gente cominciava a venire a vedere questo piccolo presepio e allora abbiamo messo un po' di forza assieme e abbiamo deciso di ingrandire questo presepio. Lui ha continuato a fare le casette che ormai saranno circa 60-70, forse anche di più, in pietra tutte incollate un pezzo per pezzo e abbiamo incominciato, diciamo, a ampliare il nostro presepio. Con l'offerta abbiamo comprato delle statue nuove, fatte delle statue nuove manualmente e attualmente penso che abbiamo circa 50-60 pezzi meccanici con le statuine che si muovono, che rappresentano, diciamo, un po' le lavorazioni che ci sono nel nostro biellese. Quindi poi abbiamo continuato anche a fare le casette, a meccanizzare un po' il tutto, quindi praticamente adesso saremmo arrivati, come dicevo prima, a una sessantina di statue in movimento e tra statue fisse e quelle in movimento più o meno siamo arrivati sulle 300-300 unità. Il presepio, diciamo, è fatto con lo sfondo delle nostre montagne biellesi, partendo dal santuario di Graglia, arrivando fino alla panoramica a Zegna, diciamo, nella zona di Mosso. La raffigurazione dello sfondo, come mi faceva giustamente rimarcare adesso il ginetto, è fatto da un pittore di Miliano che si chiama Bersani, il quale lo ringraziamo perché anche grazie a lui abbiamo potuto fare questo sfondo perché diversamente non ci saremmo noi sicuramente riusciti. Diciamo che il presepio viene visitato da migliaia di persone durante il periodo natalizio e gratifica anche un po' noi che l'abbiamo fatto perché se non fosse per il nostro presepio il nostro paese sarebbe praticamente fermo e morto. Invece così animiamo un po' il paese con la Proloco che dà la cioccolata calda ai bambini al ristorante del Bavoglio qua sotto, portiamo un po' di movimento nel paese.